Loro erano Vanessa De Mata e Ben Harper, la canzone si intitolava Boa Sorci, Buona Fortuna e Buona Fortuna auguriamo ai tanti ragazzi e tante ragazze che stanno per iniziare l'anno scolastico non solo in realtà ragazze e ragazze ma anche adulti, persone adulte che si rimettono in gioco e lo fanno attraverso, ad esempio attraverso attività come il CFIQ di Pinerolo che ho piacere di introdurre con Greta Braida. Ciao Greta! Ciao Claudio, grazie per averti accorti anche quest'oggi. È un piacere essere insieme per presentare CFIQ e le attività di CFIQ, ricordiamolo è un centro di formazione, è una sigla vero? È un acronimo CFIQ? Esatto, Consorzio per la Formazione, l'Innovazione e la Qualità. Innovazione, Qualità, Formazione, insomma parole chiave che in realtà sono molto concrete per quanto riguarda l'attività del CFIQ, abbiamo introdotto questa nostra chiacchierata parlando di futuro, di un possibile futuro. Qual è il futuro dell'artigianato e cosa può dare il saper fare, la creatività e la formazione alle persone che si rivolgono a voi? Innanzitutto, quanti studenti, quante studentesse più o meno servite ogni anno? Allora, noi abbiamo i corsi dell'obbligo di istruzione, come dicevi più, tu e i target sono diversi, quindi i corsi dell'obbligo di istruzione sono i ragazzi che finiscono la terza media e si cimentano in questo nuovo viaggio verso la ristorazione, abbiamo 11 classi quindi dell'obbligo di istruzione. Una nuova sede quest'anno, il 2 di ottobre aprirà le porte la sede di Frossasco, quindi con sette laboratori di cucina e di sala e i ragazzi si troveranno in un mondo fantastico, vi invitiamo tra l'altro a venirci a trovare perché è davvero all'avanguardia, sia come strumentazione che come spazi. Che tipo di attività farete in questo nuovo centro del CFIQ a Frossasco? A Frossasco ci saranno laboratori di cucina, di sala bar, laboratori di degustazione vino e tutto un nuovo laboratorio sulla bakery, quindi tutto di pasticceria. Benissimo, quindi la creatività, il saper fare artigiano che si unisce alla formazione ed è anche un po' questo il motivo per cui anche quest'anno siete qui ad Artigianato Pinerolo per promuovere i vostri corsi ma anche per raccontare e per condividere le vostre storie. Sono tanti ragazzi e ragazze ma anche persone adulti come dicevamo in apertura di intervento che si rivolgono al CFIQ per trovare una nuova strada. E l'Artigianato sappiamo quanto può essere davvero utile e importante per così avere una nuova possibilità? Esatto, per noi l'Artigianato ha davvero talmente tante facce che forse non riesco neanche a raccontartele tutte. Abbiamo visto ieri sera è un bagno di folla, noi come ti dicevo alle 6 e mezza siamo stati assaliti Dove e per cosa? In via Trieste 42 per una merenda sinoira perché abbiamo avuto il piacere di ospitare veramente tantissime persone del Pinerolese non solo che sono venute a assaggiare questa nostra merenda ma è stato un ritrovarsi perché i nostri allievi, adulti e ragazzi sanno che noi siamo lì siamo nei laboratori e vengono a trovarci e quindi tanti sorrisi, tanti abbracci perché c'è veramente tanto piacere sia da parte nostra che da parte loro di venire a raccontarci quella che è stata la storia che hanno vissuto negli ultimi mesi, magari le esperienze lavorative, quelle positive e quelle meno positive ma comunque è stata una crescita per loro e quindi il fatto di venire a raccontarcela è sicuramente importante Greta però a me piacerebbe tantissimo che ce la raccontassi anche noi adesso vabbè siamo gli e te qua ovviamente ci sono milioni e milioni di telespettatori in questo momento che stanno guardando RBTV e voglio di condividere almeno una storia perché secondo me è importante rendere reale non solo teorico quello che è il vostro lavoro ci sono storie di vita, ci sono persone che si rivolgono a voi e che cercano una nuova strada perché no attraverso l'artigianato, la prima storia che ti viene in mente insomma sono passate tante persone non solo giovani ma anche adulte una storia che mi ha colpito di recente quella ieri sera una ragazza, una ragazza di 16 anni si è avvicinata a un certo punto quando era quasi finita la serata e mi ha detto sa prof però sono proprio contenta perché io alle medie ero sempre in casa chiusa non parlavo con nessuno e quindi per me era difficile relazionarmi adesso che ho iniziato qua da voi un po' con la nuova classe, un po' con i professori un po' forse anche è stata una mia voglia di provare a mettermi in gioco ho capito che se io sorrido, se io mi metto veramente a disposizione degli altri ho un futuro, io non so se farò la barista veramente, se continuerò questa strada perché a me piacerebbe lavorare in ambito militare e quindi ha stravolto completamente quello che era la nostra aspettativa però questo mi è servito, ho imparato che comunque se si fa squadra se si fa comunque gruppo insieme alla classe si raggiungono grandi traguardi e quello di venire ieri sera per noi è stato un grande traguardo bello, ci sono storie di artigianato, storie di persone che si rivolgono a istituti come il CFIQ che ricordiamo sta aprendo un nuovo spazio in quel di Frossasco attività manuali, creatività e dare le basi insomma per poter realizzare i propri progetti hai parlato di ristorazione, di quindi horeca, come si suol dire hotel, catering e ristoranti ma anche altro tipo di attività di altro genere anche nel campo dell'industria immagino sì, corsi spaziano dall'operatore sociosanitario, corsi di inglese, CAD corsi di formazione in ambito amministrativo, quindi post diploma oltre a tutti quelli nell'ambito ristorativo sicuramente e tanti anni che il CFIQ è qui a Pinerolo per l'artigianato quante edizioni hai fatto? io mi ricordo almeno 6-7 edizioni da quando siamo anche noi come RB qui ad artigianato com'è cambiato nel corso degli anni la domanda e l'offerta di CFIQ per quanto riguarda l'artigianato? il mondo dell'artigianato diciamo che sì, adesso ho perso il conto, devo dire il numero preciso non lo saprei dire ma almeno una quindicina di anni che facciamo attività all'interno dell'artigianato siamo partiti con gli osho cooking in piazza coinvolgendo i vari ristoratori continuiamo a farlo coinvolgendo realtà del territorio e non solo quest'anno il grosso sponsor era Raspini ma avevamo delle realtà anche laboratoriali una pasticceria di Cavour piuttosto che altri sponsor hanno partecipato insieme a noi sicuramente ci fa piacere aprire le porte dei nostri laboratori in modo che la cittadinanza possa vedere quello che per noi è l'attività quotidiana ecco nei laboratori so che ci sono dei corsi dedicati anche alle persone occupate che vogliono appunto aggiornarsi e avere una nuova possibilità, è vero? assolutamente abbiamo corsi per tutti i gusti quindi dai ragazzini di cui parlavamo prima dell'obbligo di istruzione che escono dalla terza media alle persone che vogliono trovare una nuova strada quindi disoccupate che sono alla ricerca di una nuova occupazione ma anche per chi già sta lavorando e vuole andare a conoscere magari maggiormente il mondo della cucina piuttosto che quello della sartoria come dicevamo prima quelli più richiesti cosa sono? i corsi di cucina? i corsi di cucina sono quelli più gestionati bene bene mi fa piacere degustazione e vini anche abbinamento cibo-vino è un altro corso che piace molto bene bene qui siamo vicino alla strada delle degustazioni del vino di tutti i prodotti agricoli insomma il cibo buono è presente qui è andato in giornato Pinerolo ma torniamo al CFIQ torniamo alle tante attività i corsi preoccupati i corsi per ragazzi e ragazze ma anche attività di promozione dell'artigianato del saper fare so che questa mattina siete stati occupati occupate con i bambini con i più piccoli esatto abbiamo avuto un gruppo di ben 42 bimbetti che ci hanno permesso questa mattina di preparare pane, pizza e focaccia e avevamo dei bimbi di tre anni che sono stati uno spettacolo hanno veramente impastato tutta la mattina ed è stato molto molto bello vederli all'opera alcune di loro hanno il sogno di diventare cuoco e quindi vedere i loro occhi con le luccioline era proprio bello bello poi la soddisfazione di creare qualcosa con le proprie mani partendo dall'acqua, dalla farina e poi sono molto creativi già a tre anni dai ad esempio cosa hanno creato? le forme più strane più strane con il pane abbiamo visto di tutto benissimo allora per andare a chiudere la nostra la nostra chiacchierata Greta so che CFQ si occupa anche di non solo di creatività e di artigianato e di formazione ma anche di solidarietà ci sono diversi progetti che vi riguardano e che vi permettono insomma di dare una mano anche ad attività dall'altra parte del mondo è vero? esatto questo artigianato abbiamo deciso di devolverlo per un progetto di laboratorio di trasformazione alimentare in Brasile devo dire che Pinarolo ha risposto davvero molto bene infatti ci teniamo a ringraziare dall'amministrazione comunale che ci ha permesso di organizzarlo a tutti i partecipanti che tra venerdì, sabato e oggi hanno avuto modo di entrare all'interno dei nostri laboratori sono venuti a trovarci più di 500 persone e a degustare le nostre preparazioni quindi grande soddisfazione bene bene allora per chiudere diamo qualche coordinata per avere delle informazioni insomma per chi volesse avere delle informazioni sui vostri corsi sulle vostre attività come possiamo fare? allora sul nostro sito www.consorziofiq.it ci sono tutte le informazioni dei corsi in partenza allo 0 121 39 3617 abbiamo la nostra fantastica Erika che può rispondere a tutte le domande possibili e immaginabili degli utenti benissimo CFQ, l'artigianato, le nuove strade per il futuro possibili strade per affermare e per trovare una nuova dimensione e sempre all'insegna della creatività grazie per essere stata con noi Greta, CFQ, Pinerolo a presto grazie mille Musica! 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 Grazie a tutti.